Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Scusate il ritardo ma oggi è il mio compleanno quindi sono stato fuori Ma, ma, nuovo tipo di Yu-Gi-Oh! Illusionist! Quindi partiamo col botto ragazzi Prima di iniziare voi sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale Prima delle sempre, aggiornati col mondo di Yu-Gi Grazie mille, mi raccomando ragazzi, è importantissimo Le nuove chimere fantasma portano il tipo illusionist E andiamo a vedere queste carte nuove Chimera The Illusion Magical Beast livello 8 Illusionist Fusion Vuole Chimera la bestia medica volante più un mostro illusionist Viene sempre considerata come una carta bestia fantasma Il nome di questa carta diventa Chimera la bestia bestia volante Finché è scoperta sul terreno del cimitero Può attaccare il numero di mostri durante ogni battle phase Fino al numero di mostri fusioni utilizzati per la sua evocazione I mostri non possono essere distrutti in battaglia Dai battagli che convolgono questa carta Quindi fondamentalmente tu puoi attaccare anche due o tre volte lo stesso mostro Se questa carta combatte un mostro o l'avversario Alla fine del damage gli cambiamo l'attacco a zero e gli neghiamo l'effetto Insomma, insomma, non male Non male questa nuova carta illusionist Andiamo poi a vedere Chimera the Phantom Beast King Un mostro bestia più un mostro demone Viene sempre trattata come la Chimera volante Finché è in terreno al cimitero Ed è sempre trattata come una bestia fantasma Se viene evocata tramite fusione possiamo attivare il seguente effetto Durante la inface Mandiamo al cimitero una carta della mano all'avversario Ok? Non scartiamo, gliela manda, eh? Quindi Dark World, niente Durante il turno dell'avversario Effetto rapido possiamo bandire questa carta dal cimitero Per targettare una bestia, un demone, un illusionist al cimitero Specialarlo Non male, non male Ovviamente c'è anche una spella nuova Gazelle Notare le artwork che hanno un livello incredibile rispetto alle carte Che siamo Che conosciamo Quindi Per me Nexus è uno spartivacco incredibile Se questa carta viene evocata possiamo aggiungere un mostro del 5 demon E una chimera dal deck alla mano Una chimera fusion Se questa carta viene mandata al cimitero come materiale per l'evocazione e fusione Possiamo aggiungere un mostro illusionist dal deck alla mano Berfumet The Great Wings Mamma mia Se viene evocato Possiamo aggiungere un mostro del 4 bestia E oppure una chimera fusion dal deck alla mano In più possiamo evocare solamente mostro di fusione dall'extra deck Se viene mandata al cimitero come materiale da fusione Possiamo targettare un mostro illusionist al cimitero ed evocarlo Confidel Kotal Illusionist Possiamo scartare questa carta e aggiungere un mostro che menziona chimera fusion dal deck alla mano Eccetto lei I mostri non possono essere istrutti in battaglie che coinvolgono questa carta Quando l'avversario tiene una carta ad un effetto e targetta una più carte Controlliamo Noi controlliamo una chimera bestia volante Possiamo mandare questa carta al terreno del cimitero per negare l'effetto Per negare l'effetto e distrugge la carta Quindi fa anche il dannegate Mirror's War Knight livello 4 illusionist Effetto rapido possiamo tributare questa carta per specialare il mostro che menziona chimera Per una carta che menziona chimera fusion dal deck eccetto lui I mostri non possono essere istrutti in battaglia e convangono questa carta Quando un mostro è l'avversario attiva l'effetto di un mostro sul terreno Noi controlliamo una chimera volante e bandiamo questa carta al cimitero e neghiamo l'effetto Chimera fusion magia rapida Durante la main phase fusioniamo un mostro fusion all'extra deck utilizzando il mostro in a mano Poi abbiamo una carta promo nuova Una carta promo nuova che è i magicians of bones and unity Può essere evocata specialmente dalla mano avendo 25 più carte del cimitero Guadagna 2.500 mentre l'avversario è 25 più carte del cimitero Vabbè fa schifo però insomma ok E andiamo a vedere le carte altergeist Le carte altergeist ragazzi che molti volevano vedere Altergeist adminia Link 4 3.000 Un primo e secondo effetto all'altro per turno Se questa carta viene evocata il link possiamo settare una carta altergeist Trappola direttamente dal deck Una volta mentre questa carta è scoperta sul terreno davanti alla main phase Effetto rapido possiamo andare a una carta e controlliamo il cimitero Per targettare il mostro con effetto dell'avversario Gli prendiamo il controllo e se lo facciamo lo trattiamo come un altergeist Altergeist mall sweep Se viene aggiunta la mano eccetto pescandola la specialiamo Se viene evocata targettiamo l'altergeist nel cimitero eccetto lui lo specialiamo in difesa Ma non possiamo attivare i suoi effetti in questo turno Altergeist Sparane traitor più o meno Può attaccare diretto Quando effigionando peschiamo uno Se questa carta viene mandata al terreno al cimitero Possiamo mandare un altergeist dalla mano Ed ecco scoperto il cimitero eccetto lui E per concludere una nuova trappola Altergeist revitalization Targettiamo un altergeist link nel cimitero specialiamo Possiamo mandare questa carta dal cimitero E immediatamente dopo questo effetto sia risolto Evocare un normal, un altergeist in più Quindi anche il altergeist prende un piccolo boost Abbiamo anche Già che ci siamo La ilta The fire channeler Quindi una nuova charmer 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 E andiamo a vedere I suoi effetti Scusate un attimo che Sto vedendo delle cose Ci sono anche delle reprinte per animation chronicle Che fanno tutte parte Fanno tutte parte Ovviamente Del filone bestie mitiche E del filone altergeist In più ogni pack che suddivide le generazioni di Yugi è verde Queste sono le grandissime novità Quindi andiamo a vedere La charmer Se riesco Perché voi vedete questa schermata Ma io non ci leggo niente Quindi sto cercando l'effetto da un'altra parte Cioè su Instagram Ma non riesco a riaprire la pagina Allora Viene sempre trattata come una carta charmer Possiamo scattare questa carta Mostro fuoco Aggiungere un mostro fuoco dal deck alla mano Con un attacco superiore All'attacco dell'altra carta scartata In più non possiamo attivare i mostri con effetto Tranne mostri fuoco Quando un mostro fuoco viene distrutto in battaglia In effetti una carta Mentre questa carta è alla mano Possiamo specialarla Vabbè Niente di che Comunque Carte illusioniste Siamo veramente euforici E tra l'altro E... Su Fantasia è già prenotabile C'è anche C'è il preorder E quindi Io ve lo consiglio subito Detto questo ragazzi Fatemi sapere assolutamente Voi cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti Ciao Ciao